Giornata decisiva per la quattordicesima edizione del premio letterario internazionale L'Aquila Biperbanca, intitolato Allaudomia Bonanni. La giuria tecnica e quella degli studenti delle scuole superiori della provincia dell'Aquila si sono incontrate e confrontate per disegnare il vincitore dell'edizione 2015 che verrà proclamato il prossimo 24 ottobre. Poesia in primo piano con le raccolte di Bruno Galluccio, Fabrizio Dallaglio e Franco Buffoni. I testi sono molto suggestivi e interessanti e quindi è stato anche difficile scegliere. Secondo me le differenze sono, per quanto riguarda il linguaggio, credo che possano essere accessibili anche al grande pubblico che di solito non legge poesia. Altro momento crudo della rassegna sarà l'incontro, nel giorno della cerimonia di premiazione, con il poeta serbo Charles Simic, ritenuto tra i massimi esponenti della poesia contemporanea ed ospite d'onore del premio, tutti ingredienti per un momento di altissimo profilo culturale, nato nel 2002 per iniziativa della loro Cassa di Risparmio e dedicato ad una delle principali autrici del Novecento, che al suo interno contiene anche una sezione in cui concorreranno gli studenti delle scuole superiori della provincia. La cosa più simpatica di questi ragazzi è la profondità di pensiero e le motivazioni che danno alle loro scelte, per cui anche loro contribuiscono notevolmente a dare risalto e pregio a questo premio che ormai è giunto alla quattordicesima edizione. Anche quest'anno avremo il piacere di avere un ospite di grandissimo livello internazionale, un premio Pulitzer, quindi la città potrà godere di una giornata di cultura letteraria veramente elevata. Per quanto riguarda il premio siamo fiduciosi e speranzosi di poter continuare a mantenere questa iniziativa così come l'abbiamo impostata, anche se quest'anno abbiamo deciso di togliere una sezione che abbiamo ritenuto un po' una sovrapposizione con la sezione A. Quello che mi augurerei, comunque voglio dirlo, è che la città partecipi, perché creare le cose richiede impegno, ma l'impegno va sostenuto e la partecipazione alla città è fondamentale, non tanto nell'interesse del premio, ma nell'interesse della città stessa che deve trovare nella partecipazione un motivo di essere comunità.